ritorna finalmente dopo tre anni il campionato intercircoli edizione numero 31 un segnale di grande collaborazione tra circoli diversi nel nome dell'amore per la vela d'altura finalmente quest'anno abbiamo programmato di partire dal 6 di marzo prossimo abbiamo esattamente 12 circoli del comprensorio prima zona quindi genovese abbiamo organizzato di svolgere il campionato su sei regate più una possibile di recupero nel caso le condizioni meteo non dovessero aiutarci e queste si svolgeranno dal 6 di marzo fino al primo di maggio cinque regate saranno a bastone nel campo charlie che è esattamente sotto la lanterna mentre una faremo anche una costiera che sarà che si svolgerà nelle acque a partire da puntavagno bocca d'asse verso punta chiappa faremo un grosso triangolo giusto anche per per alternare le quelle a bastone ecco pensiamo riteniamo di poter raccogliere le adesioni di una cinquantina di imbarcazioni che saranno iscritte nella classe orc irc oppure gran crociera ecco l'idea è quella di far uscire in mare più barche possibili ecco il quello di aver creato la gran crociera diciamo l'idea di di portare in mare anche persone che normalmente non fanno regate insomma cerchiamo di attrarre più imbarcazioni possibili ecco speriamo di riuscire verranno assegnati poi anche due trofei il trofeo asonautica che andrà alle al club che avrà più vittorie nella classe orc mentre il trofeo il va andrà alla classe la classe gran crociera collaborazione ricordiamo anche con assonautica con uvai con la federazione italiana vera certo sì sì abbiamo tradizionalmente questa collaborazione con asonautica che è uno degli degli sponsor più importanti naturalmente sotto legida della federazione vela e dell'uvai che è l'associazione della vella d'altura dalla quale abbiamo tutti i certificati insomma ciascuna barca avrà il suo certificato di stazza e che verranno le classifiche verranno fatte in funzione di questi certificati